partiti in vantaggio si porta Guizzo Vincente nei confronti di Kaunos, Lupus in Chimax, Musa d'Oriente quindi ancora The Holy Way, Lip Fix con in coda Bridge or Tape. Cavalli ora lungo la curva con Guizzo Vincente che prosegue in vantaggio tallonato da Lupus in Chimax e Kaunos all'esterno poi The Holy Way ancora Musa d'Oriente, Lip Fix e Bridge or Tape Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con Guizzo Vincente ancora in vantaggio allo steccato in seguito da Lupus in Chimax con ai fianchi Kaunos. Dietro i due Musa d'Oriente davanti a The Holy Way Lip Fix e in coda Bridge or Tape sta allungando Guizzo Vincente che ha preso vantaggio nei confronti degli inseguitori tra i quali emerge Musa d'Oriente con all'esterno The Holy Way quindi Lupus in Chimax siamo a 200 dal palo con Guizzo Vincente che ha rubato il tempo agli avversari e sta allungando nei confronti di Musa d'Oriente The Holy Way nel tratto conclusivo Guizzo Vincente si impone nettamente nei confronti di Musa d'Oriente che controlla per il secondo posto The Holy Way al quarto Kaunos andiamo a rivedere le immagini di questa terza cosa in Andiano Marco Cangiano e Guizzo Vincente numero uno dello schieramento a bersaglio al posto d'onore Musa d'Oriente con il numero quattro dovrebbe aver mantenuto la meglio nei confronti andiamo a vedere il quattro di Musa d'Oriente davanti a The Holy Way quindi uno quattro due il probabile ed ufficioso arrivo della terza di Napoli